Oltre 3.000 metri quadrati di solidarietà, un parco giochi al coperto, un centro per la riabilitazione e tanto verde. Tutto questo sarà il villaggio dell'accoglienza per i bambini malati di cancro al quartiere Poggio Franco di Bari. Purtroppo è ancora un progetto, nonostante la posa della prima pietra e la gettata simbolica del cemento. Per realizzare la struttura su un terreno che il Comune ha confiscato alla criminalità organizzata è necessario un milione di euro circa, a carico non delle istituzioni ma dell'associazione AGB e amici di Vincenzo. Le persone che dormono in macchina non le voglio più vedere. Io le prime le ho portate a casa mia ma adesso non sono più nella condizione di farlo e quindi mi auguro che con il vostro aiuto, con l'aiuto di tutti, riusciamo nel giro di due anni a realizzare questo centro e farlo godere soprattutto a tutti i bimbi e tutte le famiglie che già soffrono di per sé. Non dobbiamo calcare su già famiglie che sono sofferenti per questi motivi qua. Sul terreno dove sorgerà il villaggio, progettato da Antonio Manzari, otto paloncini colorati, otto quante saranno le case unifamiliari. Il verbo è però al futuro. Per me nella mia situazione con la bambina malata di leucemia è stata la cosa più bella che hanno fatto gli amici di Vincenzo. Mi hanno aiutato a stare vicino alla bambina e a mia moglie. Con questo progetto sentiamo nei nostri cuori far battere i cuori dei bambini che adesso non ci sono più. Bisognerà raccogliere fondi. È un appello diretto questo a tutti quanti. Con qualunque mezzo uno possa partecipare è tutto ben accetto. Quindi rimbocchiamoci le mani tutti quanti. Purtroppo è una struttura che servirà, una struttura per la comunità. Speriamo di poterne fare a meno sempre di più, ma è una struttura per la comunità a cui alla comunità chiedo di partecipare veramente a questa struttura in tutti i modi, soprattutto con il denaro in questo momento e con qualunque altro mezzo, anche il volontariato diretto. Perché no? Il volontariato si sa che arricchisce chi lo fa, non chi lo riceve. Alla cerimonia della prima pietra anche il sindaco di Bari Antonio De Caro, ma c'erano anche tanti bambini della scolaresca Edmondo Di Amici di Modugno. A loro il compito di lanciare i palloncini in aria, simbolo della speranza.